Ben ritrovati, questa mattina vi raccontiamo una bella storia di un giovane agricoltore del territorio che ha ripreso in mano un'azienda ormai lasciata abbandonata da generazioni e ci troviamo ad Amandola. Innanzitutto buongiorno, siamo in compagnia di Andrea Servilli. Buongiorno, grazie Luigina. E buongiorno anche a Roberto, questa mattina di nuovo con noi. Andrea, come è iniziata la tua storia dal punto di vista di imprenditore agricolo? La mia storia è iniziata una diecina di anni fa quando io ho avuto l'intenzione di riprendere in mano questa azienda agricola di famiglia che era stata un po' abbandonata e ho iniziato a fare delle prime prove di coltivazione dello zafferano, del tartufo. Tu nel frattempo ti eri laureato? Sì, mi ero laureato e lavoravo con dei contratti di ricerca in università, quindi ho svolto il dottorato di ricerca e altri contratti. e poi successivamente sono partito sempre tramite la mia università per lavorare un periodo in Nuova Zelanda. E quando sono tornato ho deciso appunto di dedicarmi a tempo pieno alla mia azienda, quindi alla mia attività. Tu hai investito tutto lì e poi c'è stato il sisma invece che nel giro di qualche istante ha fatto crollare il tuo sogno. Sì, perché io sono tornato ad ottobre, diciamo una decina di giorni prima della scossa, della grande scossa di terremoto. Quindi lì abbiamo subito diversi danni, quindi a due case che avevamo lì, a una struttura per gli attrezzi, quindi non avevamo più neanche un posto dove poter lavorare, dove poter trasformare i nostri prodotti. E quindi ci siamo organizzati, abbiamo attrezzato una struttura d'emergenza su una vecchia stalla, abbiamo fatto intonaci, pavimenti e tutto. Certo. E abbiamo continuato a lavorare lì. Certo, non è stato semplice. Poi Roberto, ecco, c'è stato l'aiuto in questo caso della fondazione Ottavio Sgariglia dal Monte. Sì, prima di parlare della fondazione Sgariglia dal Monte, volevo ricordare, Luigina, che quando l'ho intervistato, lui mi ha anche detto che il terremoto, per quanto potesse essere stato dannoso, poi non è stata nemmeno l'unica problematica che hai affrontato, no? Praticamente è successo un po' di tutto. Sì, beh, dopo lì dal terremoto, poi siamo venuti due metri, due metri e dieci di neve, quindi siamo rimasti bloccati addirittura per due giornate, senza corrente, senza cellulare. Poi con lo sceglimento della neve sono arrivate le frane, quindi danni, diciamo, ecco, che è stato un anno impegnativo. Che ti ha messo a dura prova, insomma. Ecco, e mentalmente come si fa a ripartire? E mentalmente, prima di tutto, si riparte se uno ha tanta determinazione e passione per quello che sta facendo. Questo penso sia la cosa fondamentale. E poi si riparte grazie all'aiuto degli amici, grazie alle persone che ti sono accanto, perché da solo affrontare tutta una serie di problematiche così pesanti da solo sarebbe stata dura, ecco. Assolutamente. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi ritorniamo qui. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati. Siamo in compagnia di Andrea Servilli, un giovane agricoltore del territorio, che anche lui ha subito le conseguenze disastrose del sisma, conseguenze che in qualche modo sono state così risolte dalla Fondazione Sgariglia. Sì, allora, di positivo c'è stato l'incontro con la Fondazione Sgariglia dal monte, no? Raccontacelo un po'. Allora, io ho conosciuto la Fondazione tramite un mio amico, conoscente Massimiliano Trobiani, che mi ha invitato e mi ha parlato appunto di questa opportunità che la Fondazione stava concedendo appunto a imprese che si trovavano nella zona cratere del terremoto. E quindi sono riuscito ad accedere, quindi tramite loro appunto a questo muto ad interessi zero, chiamato microcredito appunto, che la Fondazione Sgariglia ha concesso alle aziende che si trovavano nella zona cratere. Sì, è un microcredito, però in quel momento per me è stato molto importante, prima di tutto per avere subito liquidità e per ripartire. E poi perché ho avuto accesso anche abbastanza rapidamente, ecco, quindi ringrazio la Fondazione appunto per avermi dato l'opportunità di ripartire ecco in maniera immediata. Oggi Andrea che cosa produci nella tua azienda? Produco zafferano, tartufo, miele e mele rosa di Montesibillini, poi abbiamo un laboratorio che adesso è stato terminato. Quante persone lavorano con te? Sono io e poi i miei, quindi mia mamma e mio papà che sono in pensione mi danno una mano e poi c'è un mio amico che viene e fa dei contratti, diciamo, stagionali. Certo, i tuoi prossimi obiettivi? Hai intenzione insomma di allargarti un po', qualche progetto? Sì, beh diciamo io sono partito da, ho terminato i lavori del nuovo laboratorio a novembre, quindi devo un attimino allargare anche il mio mercato, quindi ho intenzione di allargarlo un pochino all'estero, di partecipare diciamo un po', un pochino di eventi anche fuori dall'Italia. Sì, 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 poi adesso abbiamo un e-commerce, quindi stiamo lavorando un pochino. Ecco, infatti i tuoi prodotti si possono acquistare online? Sì, si possono acquistare online. E qual è il vostro sito? www.aziendaagricolavillaconti.it Abbiamo un e-commerce dove si possono acquistare i nostri prodotti. Benissimo, Roberto, hai qualche curiosità? Sì, no, io da quello che ho capito, non ti chiedo conferma, di solito gli italiani con chi deve erogare il credito non hanno mai un buon rapporto, di solito una esperienza positiva nell'immediato. Da quello che ho capito, invece con la fondazione sgariglia dal monte, il credito è arrivato subito, immediatamente, insomma un'esperienza da utente nettamente positiva. Sì, per quanto mi riguarda sì, io non ho mai preso crediti in banca, quindi non so come funzioni, ma con loro sono stati molto rapidi ed efficienti e mi hanno fornito il credito nel momento in cui io avevo bisogno, poi soprattutto senza tassi e interesse, quindi una liquidità immediata che mi è servita moltissimo. Per un giovane è fondamentale, insomma. Benissimo, allora grazie Andrea, grazie a Roberto, noi ci salutiamo qui, ciao!